Andrea Vanetti, forse a livello di motivazioni poteva averne di più il feltre, ma avete dimostrato di essere i campioni in carica e adesso inizia il bello. Ma in realtà anche da parte nostra è importante vincere al di là del fatto che non dipendesse solo da noi il posizionamento in classifica, però era un obiettivo che ci eravamo dati, provare a vincere per riuscire ad arrivare ancora a terzi. Una posizione in più può sempre fare la differenza, quindi viene così. Che partita è stata? Ma dominata a tratti, per altri versi abbiamo sempre il problema delle penalità che ci mettono in difficoltà, però se dobbiamo fare un bilancio credo che sulla fine della regular season abbiamo trovato un po' più di solidità, che era quello che ci mancava, quindi direi bilancio positivo. C'è sempre forse un pizzico di sfortuna, perché comunque al primo vero e proprio tiro in porta hanno segnato, poi ha fatto un grandissimo gol, siete comunque sempre stati in partita e avete sempre trovato subito la forza di reagire, come hai detto tu avete per lunghi tratti dominato. Ma secondo me oggi, a differenza di altre partite, siamo riusciti a controllare il gioco. Forse sia un po' di sfortuna quella che, diciamo, ci manca quella fortuna che avevamo ogni partita l'anno scorso, però dipende tutto da noi. Dobbiamo lottare anche contro la sfortuna, ma è tutto nelle nostre mani. Che mese si prospetta adesso? Sul ghiaccio ogni tre giorni praticamente sarà dura? Adesso è impegnativo, però l'obiettivo rimane sempre lo stesso. Dobbiamo serrare i ranghi, mettere giù la testa, lavorare, lavorare e sappiamo cosa vogliamo. Un augurio di Natale a tutti i tifosi. Ciao ragazzi, grazie a tutti, buon Natale, buone feste, un abbraccio. Ciao.